La crociata del Movimento 5 Stelle contro gli affitti d'oro che le amministrazioni pagano per le proprie sedi si sta diffondendo a ogni livello. Cominciata in Parlamento con l'emendamento dell'Onorevole Fraccaro che consentiva alle amministrazioni pubbliche di recedere da affitti troppo onerosi e dopo aver interessato l'amministrazione di Nardò la battaglia dei 5 Stelle investe il Presidente della Regione Michivendola, Giunta e Consiglio Regionali. I pentastellati chiedono ai vertici della Regione di disdire affitti onerosi o di rinegoziare i canoni di locazione non convenienti ma anche di ridurre le spese di società in house e partecipate gravanti sulle finanze della Regione. Entro il 31 luglio infatti ogni amministratore pubblico può, in virtù di una legge dello scorso dicembre, comunicare il recesso dei contratti di locazione di immobili o rinegoziarli. Una opportunità che interessa, secondo il Movimento 5 Stelle, oltre 150 enti pubblici pugliesi, fra cui istituti di ricerca, parchi, ordini, autorità portuali e ASL. Agli enti pubblici i pentastellati hanno comunicato l'esistenza della legge sugli affitti d'oro. La preoccupazione del Movimento 5 Stelle è che questa opportunità non sia stata valutata ancora dalle amministrazioni. Trombe, tromboni e gran casse. Quanto meno originale come refurtiva per un ladro di Andrano arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri di Poggiardo. A finire in manette è stato il 36enne Andrea Panico con l'accusa di furto di strumenti musicali. Il ladro infatti intorno alle 16 è riuscito ad intrufolarsi nel garage di un direttore di banda portando via molti strumenti musicali. La vittima, appena avvertito dei movimenti nel garage, è uscita subito di casa e ha notato un'autovettura allontanarsi a forte velocità. Subito ha chiamato i carabinieri che, lavorando sui dati parziali della targa e sulle immagini delle telecamere del quartiere, sono riusciti ad individuare panico. Attivate le ricerche, i militari hanno scovato anche il deposito dove il ladro aveva nascosto l'area furtiva del valore stimato di circa 25 mila euro. Tra gli strumenti recuperati e restituiti al proprietario, anche quattro susafoni ed una gran cassa. Panico è stato arrestato ai domiciliari. Si è lanciato da una decina di metri dalla tangenziale ovest in prossimità dello svincolo per Trepuzzi ed è in gravi condizioni. Il tentativo di suicidio è stato compiuto questa mattina da un 24enne di San Cesario. Il giovane ha parcheggiato l'auto, una Toyota Yaris, sul figlio della strada e si è lanciato nel vuoto. Sono intervenuti carabinieri e polizia, avvertiti da automobilisti che avevano notato la Yaris abbandonata sulla tangenziale. I militari hanno trovato il giovane ancora vivo in una pozza di sangue. L'autore del disperato gesto è stato condotto dai sanitari del 118 all'ospedale Vito Fazzi. Due anziani sono rimasti intrappolati fra le lamiere dell'auto, oggi intorno alle 10 in via Leopardi a Lecce. Viaggiavano a bordo di una Fiat Punto quando la loro auto, in prossimità dell'intersezione con via San Domenico Savio, si è schiantata su un palo della pubblica illuminazione, posto alla fine dello spartitraffico e poi contro un'altra vettura. Il veicolo degli anziani si è ribaltato. I due sono stati liberati dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportati in ambulanza all'ospedale Vito Fazzi. Non versano in gravi condizioni. Lievemente ferito, il conducente della Toyota coinvolta nell'incidente che ha creato disagi alla circolazione. La dinamica dello spettacolare sinistro è al baglio della Polizia Municipale. È uno degli appuntamenti da non perdere dell'estate salentina e continua a crescere con il passare degli anni. Il mercatino del gusto in programma maglie dal 1 al 5 agosto brinda nel 2014 alla sua quindicesima edizione, dedicata all'innovazione e alla sostenibilità. Un evento che richiama visitatori e turisti alla ricerca della scoperta dei profumi e dei sapori del territorio, ma anche dei saperi che la tradizione enogastronomica pugliese racchiude nei prodotti proposti sulle cento bancarelle poste nel centro storico, per cinque giorni luogo di incontro e confronto dal tramonto a tardanotte. L'associazione Mercatino del Gusto, che organizza la manifestazione con il sostegno di istituzioni e aziende private, conferma la collaudata formula. Ci sono le piazze dell'olio, del vino e della birra artigianale, le vie della gastronomia, dell'ortofrutta, dei dolci, le cene nei giardini degli antichi palazzi e il cibo di strada tra profumate bombette, focaccia barese, pucce, pizzi, scapece gallipolina, pesce fritto e via mangiando. Tante le novità di quest'anno. Nel aspetto culturale c'è questa collaborazione con la Pulio Fil Commission, che sarà presente per quattro giorni nell'iscioca pesce, con la proiezione di un trailer di mezz'ora di un film girato in Puglia, con la presenza di registri ed attori. Una nuova iniziativa che lega il gusto alla cultura è Wine Passion, questa enoteca che noi apriamo alle cantine presenti al Mercatino. E comunque viene riconfermato ed ampliato il caffè letterario in Palazzo Guido, dove vengono presentati dei libri a tiratura nazionale con gli autori veramente importanti. Ci sono anche laboratori del gusto tra storia e storie di alimenti, bevande e tecnica di produzione e cucina, mentre i bambini potranno mettere le mani in pasta e giocando imparare a riconoscere qualità e caratteristiche del cibo quotidiano. I consueti e preziosi appuntamenti con la buona musica, le chiacchierate e mille altre occasioni per stare insieme fanno il resto. Il Mercatino del Gusto attraverso le vie di maglie lungo le quali si snodano questi percorsi enogastronomici ormai raccoglie tantissimi turisti. Sono molti turisti che vengono qui nel Salento proprio in occasione del Mercatino del Gusto. Io da sempre lo definisco il salotto bello, il salotto buono dell'esposizione dei nostri prodotti enogastronomici. Anzi, io penso che molti eventi dovrebbero prendere esempio dal Mercatino del Gusto per capire proprio come in maniera elegante si possono presentare i nostri prodotti e farli conoscere agli stranieri e ai turisti che affolleranno sicuramente dall'1 al 4 agosto la cittadina di Maglia. E' entrata nel vivo la stagione lavorativa legata ai prodotti agricoli in terra d'Arneo e vengono potenziate le strutture di assistenza agli immigrati generalmente occupati in questo settore. In quest'ottica l'ambito territoriale di Nardò che comprende anche Copertino, Galato, nell'Everano, Porto Cesareo e Secli, ha attivato un servizio di consolidamento e potenziamento dello sportello per l'integrazione sociosanitaria culturale dei migranti affidandolo alla cooperativa rinascita. Il servizio ha una sede operativa permanente presso il campo di accoglienza dei lavoratori stranieri stagionali allestito dall'amministrazione comunale di Nardò e garantisce supporto e orientamento ai cittadini immigrati, aiuti in casi di necessità e facilitazione nell'utilizzare i servizi del territorio con l'obiettivo di rimuovere eventuali forme di discriminazione. Inoltre lo sportello si propone di sensibilizzare operatori, cittadini e istituzioni sul tema dell'immigrazione, creando conoscenza reciproca, occasioni di incontro e scambi fra persone di diversa provenienza e cultura. Al fine di rispondere ai bisogni dei migranti stagionali o residenti ospiti nei comuni dell'ambito, lo sportello sarà itinerante. La loro sorella apprezzò la biblioteca Achille Vergari a Nardò grazie alla quale poté documentare la propria tesi di laurea e oggi loro aggiungono in regalo alla collezione del comune oltre 900 libri. Silvia e Nicola Caputo, proprietari della libreria Nisic di Lecce, per cessazione dell'attività commerciale, regaleranno 937 volumi alla biblioteca comunale Neretina. Testi nuovi e freschi di stampa, classici, saggi, libri di narrativa, ma anche di costume e società, nonché di narrativa straniera, per un valore complessivo di 8.000 euro. La sorella dei due librai apprezzò non solo la qualità dei testi, ma anche la disponibilità del personale della biblioteca Bergari. La donazione è dunque un gesto di riconoscenza, un gesto, ha commentato il vice sindaco con delega e musei e biblioteche Carlo Falangone, che valorizza il lavoro svolto dagli operatori della biblioteca. E un ringraziamento è giunto anche dal sindaco Marcello Risi. Sarà l'ex comandante delle frecce tricolori a comandare l'aeroporto militare di Galatina. Il suo insediamento è avvenuto questa mattina all'aeroporto militare Fortunato Cesari, dove il colonnello Paolo Tarantino ha ricevuto il testimone dal comandante uscente Sergio Cavuoti. La cerimonia del passaggio di consegne si è svolta alla presenza del generale di squadra aerea Franco Girardi e di numerose autorità civili e militari. Il colonnello Cavuoti lascia l'incarico dopo due anni di intenso e faticoso lavoro, grazie al quale oggi il 161esimo stormo è interessato da un forte processo di crescita e di ammodernamento, i cui elementi caratterizzanti nel periodo di comando di Cavuoti sono stati rappresentati dal forte impulso dato all'internazionalizzazione della base salentina e dall'ultimazione dei lavori finalizzati all'introduzione del nuovo velivolo di addestramento, il T-346A, il cui arrivo a Galatina è ormai imminente. Il colonnello Paolo Tarantino, che ha assunto il comando della base aerea di Galatina, ha al suo attivo oltre un milione di ore di volo e ha formato circa 7.500 allievi, di cui 250 stranieri. Dopo aver comandato le frecce tricolori, nel 2010 ha addestrato la pattuglia degli Emirati Arabi. Il nuovo comandante si è detto onorato ed entusiasta di essere stato chiamato alla guida di un reparto che affonda le proprie radici nella storia dell'aeronautica militare e del territorio salentino e che con l'arrivo del nuovo addestratore si appresta ad attraversare una fase fondamentale di cambiamento per continuare ad essere un punto di riferimento nel settore dell'addestramento avanzato al volo anche in un più ampio contesto multinazionale. Grazie a tutti!